Eccoci qua, benvenuti a Economicamente, io sono Maurizio Poli, alla mattina presto alle 7 e mezza, canale 99, prendiamo un caffè con voi, prima di andare a lavoro, e vi parliamo delle aziende del territorio, della regione Lombardia, siamo qua con una bellissima azienda nuovamente a parlare di attività di futuro e di presente.